Ragazzuoli quest'oggi parto subito col dirvi che sono di un humor ragazzi che voi non avete neanche idea sono tristissimo E' appena uscita la skin renegade rider pandy zenzero insieme ovviamente a tutto il set pandy zenzero Questo qui il salcheggiatore felice e l'artigliere allo zenzero ragazzi con picconi e varie cose strane E ragazzi io proprio ieri sera mi sono shoppato questa skin qua del master kiev se dovrebbe dirsi così In ogni caso ragazzi ho speso 1500 vbucks quando oggi esattamente il 12 di dicembre è uscita questa Io davvero non ho parole quanto la mia sfiga sia grande in questo esatto momento Ma in ogni caso ragazzi benvenuti in un nuovissimo video di forte ce ne faremo una ragione In ogni caso magari stasera forse una shoppatina di 1000 vbucks visto che ne abbiamo proprio 200 e ne mancano 1000 esatti per prendere la skin Vabbè magari facciamo anche un contest non vorrei dire troppe cose In ogni caso ragazzi oggi siamo qui non per tutto questa armada da qua anche se ci tenevo a farvi vedere che è uscita appunto la nuovissima renegade rider E che alla fine non è uscita con nessuna esclusiva playstation xbox eccetera 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 Ma è semplicemente uscita nel negozio oggetti di fortnite mi raccomando se la shoppate o se shoppate qualunque altro item Come per esempio magari anche il master kiev codice lucius ragazzi sempre nel negozio oggetti di fortnite Quindi signori partiamo immediatamente con la notizia super è iniziato praticamente il nuovissimo winter royale ragazzi Si battaglia nella bufera precisamente e ci saranno praticamente vari step Difatti inizierà tra 8 ore cioè tra qualche oretta quando appunto starete guardendo questo video Anzi tra un'oretta precisa se non sbaglio e praticamente ragazzi si svolgerà dalle 11 fino alle 13 La prima sessione della battaglia della bufera Era la seconda sessione invece con brevi già e ricompense 1.35, 1.800 euro dollari e 1.400, 1.200 Poi la sessione 3 che sarà esattamente sempre oggi ma un pochino più tardi Verso le 18 fino alle 20 Ide per questa qua dalle 21 fino a mezzanotte E anche qua sempre 1.800, 1.200 Ci tengo a farvi vedere questi passaggi per farvi capire dopo quello che andremo a visionare In ogni caso qui abbiamo sempre anche tra un giorno quindi il 13 di dicembre cioè domani domenica Dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 17, dalle 18 alle 20 e dalle 21 a mezzanotte Sempre ovviamente 1.800, 1.200 euro Questi sono tutti i pool prize di questo nuovissimo torneo battaglia nella bufera Ci tengo appunto a farvi vedere questa roba qua perché praticamente ragazzi Partecipando a uno di questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tornei che ci saranno da oggi Dopo che sarete guardando questo video fino a domani alla mezzanotte Avremo la possibilità di ricevere una copertura in modo completamente gratuito Semplicemente facendo 5 punti in questo torneo ragazzi Ci spostiamo infatti sul sito ufficiale della Epic Games E come potete vedere qua regolamento ufficiale battaglia nella bufera Ovviamente ragazzi non sappiamo ancora quale copertura ci verrà regalata Partecipando appunto a questo torneo battaglia nella bufera Ma non è caso otterremo appunto una ricompensa Quindi signori andiamo a vedere le top con relativi premi Semplicemente ragazzi eccoci qua Allora innanzitutto abbiamo vittoria reale 30 punti Secondo posto 25 punti Terzo posto 20 Quarto 15 Quinto 10 Dal sesto al decimo 5 punti E dall'undicesimo al ventesimo 2 punti E ogni eliminazione 2 punti Qui abbiamo poi il giorno 2 che non vi sto a elencare perché sarebbe una spatafiata Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione E tra l'altro oggi pomeriggio dovrebbe uscire lo sua per sé tutto Va bene? In ogni caso ragazzi andiamo a vedere appunto i premi Abbiamo dal primo al 35esimo 1800 dollari E dal 36esimo al 400esimo 1200 dollari Che non sono affatto male anche se sarà difficilissimo Sono sicuro arrivare in questa top E guardate un pochino qui cosa ci dicono 5 punti guadadiati Uguale a copertura estetica del gioco Sculli Natale Quindi del milite teschio ragazzi In versione natalizia Quindi potrebbe essere diciamo Una sorta di magari Copertura Zebrata per appunto simboleggiare magari La schina appunto del milite teschio Ovviamente però natalizia Beh staremo a vedere in ogni caso A brevissimo Quando appunto inizierà questo torneo E quando ovviamente poi verrà consegnata più avanti La copertura E vi ricordo ragazzi Che per partecipare a questo torneo Dovete assolutamente essere Almeno di livello 30 E superiore Ovviamente io sono a livello bassissimo E quindi in questi giorni Anzi in queste orette Praticamente farmerò un botto Per almeno fare 5 punti Ed ottenere questa ricompensa Della Vrap Quindi signori Questo era il video Semplicissimo e velocissimo Io spero che appunto Vi sia piaciuto Se così è stato lasciato Un bel pollicione all'insù E un boccio grandissimo Ragazzi ci vediamo In un prossimo video Baralive Link in descrizione Dell'articolo ufficiale Un boccio grandissimo Bella boccio Ho sentito dire in giro Che tu ancora Non mi stai supportando Come creatore? Che cosa? Bene Vai subito nel negozio oggetti Di Fortnite Clicca sulla voce In basso a destra Supporta Un creatore Ed inserisci Il codice Lucius Maiuscolo O minuscolo Che sia Non cambia nulla Cliccate su accetta E mi raccomando Taggatemi nelle vostre storie Di Instagram Mentre shoppate Con il mio codice Che vi riposterò Tutti Dal primo All'ultimo E mi raccomando Cordais Pedicolo Editing